Bella raga, buonasera, dunque appena finita Juventus-Atletico Madrid 1-0 decide una magia su punizione al 47esimo del primo tempo di Paolino Di Bala, sempre lui la Joia, una punizione ragazzi davvero stratosferica, non voglio fare paragoni per carità di Dio ma erano le punizioni di un certo Maradona, praticamente la punizione per chi non l'ha vista, era quasi sulla riga del fondo dell'area di rigore, del fondo del campo, era tra l'area di rigore e il calcio d'angolo, praticamente una bomba che ha spiazzato, imparabile per Oblacca, una Juventus che ha mantenuto a buono il possesso della palla, ha fatto il 59%, un gol che ha risolto questa partita e con una giornata anticipo la Juventus volando a 13 punti e prima del girone ha un primo posto assicurato, ora l'Atletico a 7, il Weidler-Küsen che ha vinto il Mosca 2-0 il pomeriggio e ha 6 punti e alla prossima c'è un Weidler-Küsen-Juventus dove la Juve praticamente non ha più nulla proprio da dire a questo girone e l'Atletico in casa dovrebbe vincere facile comunque con la Lokomotiv ad accedere agli ottavi. Che dire, una partita molto dura, maschia come gioca stesso l'Atletico, Simeone si è dimostrato ancora una volta un uomo di merda perché Bonucci butta fuori il pallone per un intervento su Ronaldo che era rimasto a terra, Simeone fa continuare i suoi a giocare, ad attaccare con Morata che sfiora il gol. Morata che stava andando a segno proprio al 93, secondo me c'era un leggero comunque fuori gioco sul cross di Correa, sulla linea non trova l'impatto con la palla e la manda fuori, ma anche l'1-1 sarebbe stato un risultato a favore della Juventus visto che all'andata finì 2-2 dunque il fattore sconti diretti era a favore. Una buona Juventus, siamo ancora imbattuti, siamo primi in campionato, primi in Champions, non ci possiamo lamentare di questo inizio, Ronaldo ancora non mi è piaciuto per niente nemmeno stasera, mentre ha fatto un grandissimo partitone, Matthijs De Ligt, che sta tornando il De Ligt conosciuto con la maglia dell'Ajax. Scusate, sono un po' influenzato. Che dire, ci teniamo costretto questo primo posto, ci vediamo a febbraio per quanto riguarda la Champions League, ora siamo tranquilli perché siamo anche primi. Io vi auguro una buona serata, sempre fino alla fine Forza Juve, e complimenti anche all'Atalanta che ha vinto 2-0 con la Dinamo Zagaria, Redi di Muriel su rigore Gomez. Quindi complimenti all'Atalanta, ha vinto anche il Sidi, il Sidi mi sembra che abbia pareggiato, però, quindi non solo alla situazione dell'Atalanta, comunque, complimenti comunque all'Atalanta. Io vi auguro una buona serata, sempre fino alla fine Forza Juve, e ciao a Juve.